E' tutta la potenza Quando precessione l'orizzontale si gira sotto sopra E' tutta la potenza Questa è iniziata e in queste prime giornate di registrazione di messe online di questi bellissimi contributi dall'aeroporto Caproni di Trento Oggi parleremo di elicotteri, in particolare parleremo di elicotteri di posto Che sono questi all'interno dell'hangar della Italfly, una delle compagnie più attive qui all'interno dell'aeroporto Caproni Perché si occupa di formazione e di manutenzione elicotteristica Questi elicotteri sono elicotteri che vengono utilizzati dalla scuola per istruire i prossimi piloti Ma al tempo stesso sono elicotteri che possono essere presi a noleggio per i piloti che hanno già fatto il percorso di formazione Ma al tempo stesso sono elicotteri che vengono utilizzati dalla scuola per i piloti che hanno già fatto il percorso di formazione Siamo in hangar Italfly con l'istruttore Caproni, edo training di Italfly, Christoph Goetsch E col quale vorremmo un po' capire meglio come funziona questa macchina, cioè avere qualche dato tecnico di supporto Questo è uno dei nostri elicotteri nuovi del tipo Gunball Cabri G2 Che abbiamo introdotto l'anno scorso, anche e soprattutto per lo scopo didattico Quindi continueremo a fare addestramento su questa macchina È un modello abbastanza recente sul mercato, i primi sono usciti negli anni 2000 Poi certificazione qualche anno dopo, quello che ci serve per gli elicotteri per certificarli E nel 2010 ha messo piede la prima volta sul mercato europeo e anche italiano Noi l'usiamo dall'anno scorso infatti, questo è abbastanza nuovo, è arrivato un mese fa E chiaramente visto, essendo una macchina più moderna, anche i componenti montati sono più moderni Per esempio abbiamo tre parti principali dell'elicottero che una volta la cabina in composito, quindi fibra di carbonio Abbiamo anche il cono di coda che è un pezzo unico in carbonio Questo chiaramente dà una struttura molto rigida e performante E pesa anche di meno che su elicotteri, aeroplani, aeromobili in generale Ma soprattutto su elicotteri piccoli, ci dà un grande vantaggio Possiamo fare un giro intorno e vedere un po' anche l'interno dell'elicottero Chiaramente per scopo scolastico abbiamo montato due comandi Se uno poi vuole analizzare la macchina, togliamo semplicemente l'altra parte Dei comandi dell'altra parte Continuiamo il giro Una grande differenza, un vantaggio che abbiamo su questo elicottero in paragone agli vecchi elicotteri che abbiamo usato Che ha più autonomia Tutta questa parte qua è un serbatoio con 170 litri al massimo Con un consumo di questo elicottero di media 40 litri all'ora Ci permette con il giusto equipaggio, con la giusta configurazione anche volare fino a 4 ore Questo in paragone ai vecchi elicotteri che abbiamo impiegato ci dà sicuramente un'ora e mezzo di più di autonomia Possiamo vedere come viene impiegato, dove genera la potenza E' il nostro motore Interessante su questo motore, è uguale, identico come il motore dell'elicottero che abbiamo usato prima Vediamo il Robinson 22 per scuola E' un Lycoming 360 Juliet 2 Alpha Ed è un 6.000 di cilindrata Quattro cilindri contrapposti Ed è un motore aspirato naturalmente Quindi ha un carburatore Interessanti su entrambi i motori Sia 22 che anche cabri Questo motore, chiaramente un 6.000, vi potete immaginare che può generare anche centinaia di cavalli Eroga a 2.750 giri soltanto 145 cavalli Perché questo ci basta per girare l'autore Per permetterci di generare portanza e per portare in giro due persone Perché abbiamo montato un motore a scoppio su questi elicotteri? Dipende che scopo ha il nostro volo Per esempio, di solito si dice che l'elicottero vola O viene alimentato con una turbina Qui vediamo, dobbiamo vedere a che scopo usiamo l'elicottero Il vantaggio di una turbina è che il peso è minore E che genera su uno spazio ristretto con meno peso Più potenza, quindi anche un migliaia di cavalli ai tempi di oggi Però in produzione, in manutenzione è più costoso Quindi più complicato da produrre, più complicato da mantenere E richiede più interventi manutentivi per mantenere la macchina Un motore a scoppio in produzione costa di meno E anche gli interventi manutentivi sono minori o più gestibili Anche economicamente per realtà più piccole O per questo scopo di portare in giro due persone Nel nostro caso che è il massimo carico che avremo su queste macchine Invece un motore a turbina con gli elicotteri più grandi Lì sono missioni più corti, dedicati, specializzati Per esempio il rifornimento di rifugi, eccetera, nella nostra zona qua I modelli più grandi poi, per esempio Robinson 44 Che abbiamo anche l'Hangar, non so se l'avete visto prima O possiamo vederlo anche dopo Questo è il motore della stessa casa produttrice Più grande, con due cilindri di più È un 8000 Questo è già a iniezione Bene Come ho detto, l'elicottero è nuovo In paragone a Robinson 22 che abbiamo usato fino adesso È nato già negli anni 70 Aveva due anni fa nel 2018 il quarantesimo compleanno Quindi è una macchina vecchia Ha lo stesso motore come disegno Cosa cambia allora? Abbiamo sistemi, per esempio, più sofisticati di guarnizioni, di accensione Anche il fatto che ha più autonomia in collegamento In riferimento al suo osservatorio più grande Modernizza questo motore qua Noi abbiamo due tipi di accensione Che è una accensione elettrica Che aumenta il rendimento del motore E come backup, come sicurezza, per redundanza Abbiamo anche un magnete Il Romus 22 avrebbe solo due magneti montati Per garantire l'accensione Questo uno Chiaramente 40 anni fa non era ancora possibile Avere un'accensione di questo tipo E quindi su questo motore che è uguale Hanno montato sistemi migliori Anche il raffreddamento del motore è maggiore O diciamo più efficiente su questa macchina Già perché l'aria che entra sopra è canalizzata E il radiatore è intubato Che permette a raffreddare effettivamente La stessa quantità, lo stesso tipo di olio E in maniera più efficiente Con l'esperienza che avevano su altri elicotteri di questo tipo Chiaramente gli ingegneri hanno facilitato L'accesso al motore e quindi conviene anche al pilota È più facile a controllarlo Di impostarlo in maniera più facile Un esempio che mi vedo subito È per esempio tutti i cavi davanti e dietro Passano tra questo tubo Quindi il tecnico deve solo svitare questo connettore E tutto l'albero elettrico Tutto la fascia di cavi elettrici Passano tra questo il tubo qua Che facilita anche la manutenzione Un altro particolare di questo elicottero È sicuramente il tipo di rotore di coda Che è il famoso fenestron Che è un po' diverso di un classico sistema rotore di coda Un classico sistema rotore di coda o anticopia È praticamente un rotore principale Girato a 90 gradi Quindi sono due pali che creano portanza E più o meno o più aumento il passo del rotore di coda Più si aumenta il flusso del rotore di coda Posso contrastare la copia che genera il rotore principale Stesso scopo di questo sistema Però funziona un po' diversamente Qui abbiamo il rotore intubato E non lavora con la portanza delle palette del rotore di coda Lui genera un flusso d'aria in questo tubo ristretto E quindi avremo in questo caso una spinta di aria verso destra Il vantaggio di questo sistema è che Genera più forza che un sistema classico È però un po' più particolare da gestire in volo Perché prima questo effetto Per generare questo flusso d'aria Abbiamo un ritardo Un leggero ritardo Quindi non è diretto l'applicazione di questa forza Diciamo usando i pedali Che ci servono per gestire Effettivamente un sistema di rotore di coda E in più lo sviluppo della forza è esponenziale Cosa significa che su un sistema classico Quanto pedale do Quanto spinta genero anche sul torre di coda Qui invece se io sto applicando il piede destro Il primo o terzo non ha la stessa spinta Come per esempio gli ultimi 5 cm Che vuol dire volando o sempre più O diciamo in volo lento o in volo stazionario Ho tanto piede dentro che sul sistema classico Non richiesto, non c'è bisogno Come dati tecnici Per farvi i numeri Questo, il rotore principale gira a 530 giri al minuto È collegato con una trasmissione Che chiaramente aumenta i giri del rotore di coda Fino a 5600 giri Quindi abbiamo bisogno anche di un movimento più veloce Del rotore di coda Per generare abbastanza flusso d'aria Per contrastare la coppia del rotore principale Speciale su questa macchina Sicuramente anche l'avionica più moderna Più sofisticata Lui per esempio Tutti i sensori che ha Fanno un auto check E presentano direttamente al pilota Se un sistema funziona O se aveva addirittura un problema nel volo prima Qui ho anche un lock digitale Qui vediamo che tutti i sensori funzionano E non avevano un problema nel volo prima In questo caso lui automaticamente Salta sulla pagina di avviamento Per quello infatti c'è scritto anche Start Quello che vorrei indicare Che Diciamo negli ultimi anni Chiaramente Da quando andiamo in volo Fino adesso La digitalizzazione La tecnica si è sviluppata E quindi abbiamo qui la possibilità Di non avere tantissimi orologi in giro Dove il pilota deve cercarsi le informazioni Il grande vantaggio è qui Che abbiamo tutto presentato Sul schermo principale Quindi Se parliamo della temperatura del carburatore La temperatura testata a cilindri Della temperatura Dell'olio La pressione dell'olio La pressione della linea carburante La quantità di carburante Tutto presentato qui La cosa bella per il pilota Adesso vediamo anche che Chiaramente che è spento Quindi non c'è pressione Sia dell'olio che del carburante E la temperatura non è dentro il range Per andare in volo Il grande vantaggio è In volo Lui mi fa vedere Se sono in arco verde Con il numero specifico Quindi finché Io sono in arco verde Vedo a colpo d'occhio Anche in una situazione Una manovra che richiede più attenzione Una situazione di volo Che toglie concentrazione al pilota Mi permette comunque A controllare tutti i parametri A colpo d'occhio Perché sono presentati tutti qua Questo è sicuramente un grande vantaggio In più che è veramente fatto bene E quando entro in un arco giallo Che è Possiamo chiamarlo Special operations range Quindi possiamo entrare Però serve attenzione del pilota Per il sviluppo della situazione Mi mette un quadretto intorno al numero Quando entro con l'ago nell'arco giallo E quindi immediatamente Mi viene attirata l'attenzione Su una certa situazione di volo Che come ho detto Ha bisogno dell'attenzione del pilota In più Quando ho un sensore Che non funziona più Se entro addirittura in arco rosso Che vi potete immaginare Significa da non andare Per nessuna ragione Mi indica subito Che ho questo problema E mi toglie il workload del pilota E mi indica subito Il parametro Che è fuori dalla norma Per oggi dalla Hangar e Italfly è tutto Per festivolare 2020 online edition Ci risentiamo domani Grazie a tutti Grazie a tutti